Da Barcellona alle Marche, andata e ritorno. La Spagna è la quinta regione per export nelle Marche, per la meccanica, metallurgia, moda, calzaturiero e per questo la regione Marche vuole collegarla al meglio con l'aeroporto di Falconara. Una connessione tra Barcellona e Ancona può essere veramente importante per dare l'opportunità ai nostri imprenditori ma anche ai imprenditori catalani perché noi promuoviamo anche l'attrazione di investimenti e con l'opportunità per cercare di fare ancora di più business. E sappiamo quanto per noi sia fondamentale per la regione, per le nostre imprese potenziare le export, potenziare una crescita imprenditoriale complessiva. La presentazione del volo si inserisce nell'ambito della settimana italiana del mondo che vede protagoniste anche aziende marchigiane. Il volo è importante anche dal punto di vista turistico. C'è sì stato un incremento di turisti stranieri molto forte ma l'afflusso di turisti spagnoli è ancora basso. Per le Marche è una sfida, la previsione nei prossimi mesi è quella di arrivare a 25.000 passeggeri diretti nelle Marche. Dobbiamo intanto lavorare sulla destagionalizzazione del turismo nella nostra regione individuando delle linee direttrici che siano il più possibile strategiche e focalizzate, quindi poche attività che vadano tutte a convergere verso gli stessi obiettivi. Un punto di connessione l'aeroporto di Falconara, un asse importante quello marchigiano. L'aeroporto si prepara a crescere ancora, spunta l'opzione Madrid per il futuro, un nuovo volo che potrebbe partire dalle Marche. Noi pensiamo che questa possa essere un'opportunità sia per i turisti marchigiani che per quelli spagnoli, aspettiamo di vedere i dati dei voli ma stiamo anche valutando una nuova rotta per Madrid. Grazie a tutti.